Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Sorin Ecco che anche il mese di luglio è passato, l'abbiamo salutato Continuiamo a morire di caldo con un altro mese di agosto che si preannuncia rovente Ma anche gli acquisti di questi ultimi giorni non scherzano Infatti dopo il video acquisti e regali Funko Pop Eccoci con il video acquisti manga degli ultimi 10 giorni di giugno E vi assicuro che ci sono delle vere e proprie bombe Quindi rimanete collegati perché subito dopo la sigla iniziamo a parlare di questi acquisti E come faccio sempre in tutti i video acquisti partiamo dalla casa editrice di cui ho acquistato meno E in questo caso è la Blackmagic ma purtroppo non posso farvi vedere la copertina O meglio ve ne faccio vedere una parte, soltanto il titolo Perché tutto il resto è altamente censurabile Quindi l'Otaku del 10.000 a.C. il terzo numero Numero che va a completare la serie Mi raccomando acquistatelo solo se siete maggiorenni Perché è un Entai e tutti noi sappiamo qual è la trama base di ogni Entai Poi andiamo avanti ed è rarissimo sentirmelo dire Con un solo numero acquistato Star Comics Però un numero che mi è piaciuto veramente tanto Parlo di Heavenly Delusion il numero 3 Ho fatto recentemente anche il video recensione a riguardo Se non l'avete ancora visto andatevelo a recuperare Perché è un'opera veramente molto 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 interessante Piena di misteri, piena di colpi di scena Quindi secondo me può valere la pena dargli una possibilità Il prezzo è di 6,90€ a volume Per quanto riguarda J-pop e Planet Manga Invece abbiamo un pari merito Con 6 volumi acquistati per ogni casa editrice Inizio da J-pop per il semplice fatto che contiene un cofanetto E quindi ha un pochettino meno valore rispetto a 6 numeri singoli acquistati E quindi iniziamo appunto a vedere questo cofanetto Qualcuno magari avrà già visto la foto su Instagram Parlo di Tokyo After Hours Manga Shoujo Ai È il primo che acquisto Sono curioso comunque di conoscere il genere Sono uno a cui piace leggere tutto E mi mancava questo genere in collezione Al prezzo di 6,90€ per 3 volumi totali Box completo a 20,70€ Ho deciso di iniziare da questo Ho letto per adesso solo il primo volume Non è un capolavoro, stiamo attenti Però magari mi stupirà con i numeri futuri O magari non mi piacerà perché proprio il genere Non è nelle mie corde, ci può stare anche questo E vediamo comunque le copertine dei tre numeri Il primo, il secondo e il terzo L'estetica delle copertine mi piace molto Però su tre numeri non essere in grado di farli Tutti e tre della stessa grandezza È una cosa che veramente mi dà un fastidio Cerchiamo di stare attenti a questi dettagli Perché potrebbero fare la differenza per qualcuno Ora iniziano le vere bombe di J-pop E partiamo da quella più importante Diciamo così The Promised Neverland, il numero 16 Il numero 15 Tanti di voi hanno detto che aveva avuto un leggero calo Secondo me non è così E anche il 16 continua a mantenersi a livelli veramente altissimi Se c'è qualcuno che sta guardando questo video E non ha ancora comprato The Promised Neverland Mettete in pausa il video Andate a comprarlo Tornate e andate avanti con il video Appena finito lo leggete tutto Perché non potete non avere quest'opera all'interno delle vostre collezioni Il prezzo è di 5,90€ volume Andate, correte e recuperatelo Poi un'altra opera che a me ultimamente sta piacendo veramente tantissimo Sto parlando di Actage, il numero 3 Ho letto su Instagram o da altre parti Che qualcuno lo ritiene un manga lento e noioso Per me non è assolutamente così Infatti l'ho inserito anche nella top 3 delle promesse manga Che stanno uscendo in questo periodo Il prezzo è di 5,90€ volume Parla di film Ma parla soprattutto di sentimenti E di quello che c'è dietro a una semplice attrice Che con grandissima voglia di arrivare e di raggiungere il proprio obiettivo Concludiamo J-pop con una novità assoluta E ovviamente sto parlando di So I am a spider so what L'ho letto ieri sera Non mi ha fatto impazzire Devo essere sincero È molto divertente Il prezzo è di 6,50€ volume Con questa variant Che teoricamente dovrebbe sbrilluccicare tutta il buio Ma si vede ben poco Ci ho provato ma si vede ben poco Non lo so Il secondo numero probabilmente proverò a prenderlo Però non lo so Queste opere dove si Isekoi Dove si entra all'interno di giochi Videogiochi Non mi stanno facendo impazzire Tutte quelle che sto leggendo Non mi stanno dicendo niente Questa compresa E ora siamo giunti alla casa editrice Vincitrice di questi ultimi 10 giorni del mese di luglio E ovviamente sto parlando di Planet Manga Planet Manga che si apre con Due volumi veramente importanti Di un autore che a me piace veramente tantissimo E so che anche a tanti di voi piace Infatti mi avete consigliato di Acquistare magari un'opera ogni tanto Di non fossilizzarsi solo su di lui Perché leggere solo lui diventa veramente tanto tanto impegnativo E quindi di Inyo Asano Ho recuperato Short Stories Al prezzo di 12,90€ Però ne vale veramente la pena Perché è gigantesco E ogni singola storia contenuta al suo interno Vale il prezzo Perché c'è di tutto qua dentro Cioè qualsiasi sentimento vi venga in mente Asano riesce a farvelo provare con una storia all'interno di quest'opera Poi andiamo avanti sempre con Inyo Asano Invece la sua ultima pubblicazione italiana Ovvero Eroi Sempre al prezzo di 12,90€ Stavolta però un pochettino ci rimani male Quando vedi che entrambe le opere hanno lo stesso prezzo Questa ha mille pagine Questa ne ha due Quindi sul prezzo avrei qualcosina da obiettare Però la storia all'interno è molto particolare Però mi è piaciuta abbastanza anche questa Non tanto quanto Short Stories o Solanin Però è una buona opera anche eroi Poi andiamo avanti con Planet Manga Con il numero 5 di Gigant Prezzo di 4,90€ Dopo il numero 4 ero indeciso Se andare avanti ad acquistarlo oppure interrompermi Ho deciso di andare avanti E per adesso sono contento della mia scelta Perché c'è un qualcosina che sembra cambiare Da questo numero 5 Spero di non sbagliarmi Continuano ad esserci diciamo delle scene di nudo O di sesso che potrebbero benissimo essere messe da parte Però sono inserite in alcuni contesti Dove non danno neanche troppo fastidio diciamo La mia speranza più grossa è sempre stata quella Che non seguisse le orme di Guns Che dopo arrivato ad un certo volume in avanti Era diventato pressoché illegibile Speriamo che prima di arrivare a quel punto Magari decida di finirlo questa volta E la piega che sta prendendo Ripeto, non mi sta dispiacendo Poi abbiamo Jujutsu Kaisen Il numero 4 Un'altra opera che sta spaccando in due L'opinione pubblica Infatti c'è chi lo adora E chi invece ha già smesso di comprarlo Dopo i primi due numeri Allora, prende un pochettino spunto da altre opere E la cosa non mi fa impazzire Premessa, il numero 4 ancora lo devo leggere Fino al numero 3 l'avevo giudicato così Ora vediamo come va con il numero 4 Però secondo me è un Battle Shonen Che è leggibile Molto carino Molto veloce E se continua con questi ritmi E con questa semplicità Penso che andrò avanti ad acquistarlo Poi come tutti i mesi Troviamo in ogni video acquisto Slam Dunk, il numero 10 Ancora non ho letto questo volume Non vedo l'ora di leggerlo Perché comunque il numero 9 Aveva lasciato aperte Veramente tante opzioni Non avevo la prima stagione Quindi non ho idea di che cosa succede In questo numero 10 Però Slam Dunk Anche in questo caso Prezzo di 7 euro a volume È un'opera da avere obbligatoriamente In tutte le nostre librerie Unico appunto che faccia Planet Manga Sono le costine Che messe di fianco Una accanto all'altra E sono un pochettino Un pugno nell'occhio Quindi se un domani Deciderai di fare una terza ristampa Stacci un attimino attenta Non ti costa niente Dai Concludiamo questo video acquisti Con la conclusione di un manga In soli tre volumi E sto parlando di Star Wars Lo Star Mi è piaciuto Veramente tanto Anche se sono solo tre numeri L'idea di inserire All'interno di quest'opera I reali personaggi Di Star Wars Che sono Entrati A far parte Dell'universo Della saga cinematografica Qua vediamo Come sono stati disegnati bene Palpatine E Darth Vader E' stata una scelta Decisamente vincente E L'opera di per sé Ha un finale Abbastanza scontato Ammettiamolo Però E' stata fatta bene So che è stata tratta Da un romanzo Che non ho letto Ma Per chi non ha mai Letto o visto niente Di Star Wars E vuole provare Ad avvicinarsi All'universo cinematografico Di Star Wars O per chi Adora Star Wars In ogni caso Per tre numeri Prezzo di 4,90€ Volume Secondo me Può valerne Veramente la pena Io con questo Ho concluso Il video acquisti Di luglio 2020 Tra un paio di giorni Uscirà anche Il riepilogo generale Con tutte le letture fatte Per il momento Io vi ringrazio Per aver guardato Questo video Vi auguro Una buona serata Se non l'avete ancora fatto Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale E noi ci sentiamo Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.